La pace del Signore, gloria a Dio a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle in Cristo, popolo e chiesa dell'iddio vivente, vi invito ad aprire la scrittura nel libro dell'Apocalisse, la rivelazione di Gesù Cristo ai Suoi servi, un libro meraviglioso che contiene tanti e tanti insegnamenti utili a rafforzare la nostra fede e farci rivolgere lo sguardo verso il Cristo vittorioso, perché il nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è il vittorioso, alleluia, colui che ha preparato un regno di gloria per coloro che lo amano. Vogliamo continuare in una serie di riflessioni dal titolo La condizione spirituale delle sette chiese dell'Apocalisse, delle sette chiese che sono descritte in Apocalisse alle quali il Signore indirizzò delle lettere per richiamarle, per esortarle, per trasmettere loro dei messaggi particolari. Amen? E vi voglio dire che queste lettere sono valide ancora oggi per noi, che siamo la chiesa del Signore come lo erano loro in quei tempi, così noi oggi siamo la chiesa del Signore. Vogliamo continuare in queste riflessioni con l'aiuto del Signore? Scusate, alleluia. Avevamo iniziato un po' di tempo fa queste riflessioni e Dio ha messo nel mio cuore di continuarle con l'aiuto dello Spirito Santo nel quale io confido per avere la capacità di condividere la santa parola di Dio, perché non è la parola di un uomo, non è la parola di un predicatore, non è la mia parola, ma è la parola del Signore. Ecco perché dobbiamo avere orecchi da udire la voce dello Spirito. Amen? Gloria a Dio. Apocalisse capitolo 2, quest'oggi leggeremo la seconda lettera, la lettera che fu indirizzata alla chiesa di Smirne. Amen? Alleluia. Vogliamo leggere dal verso 8 dove sta scritto così e così leggiamo alla gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Amen? E all'angelo della chiesa di Smirne. Alleluia. Scrivi, gloria a Dio, queste cose dice il primo e l'ultimo. Alleluia. Che morì e tornò in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia tu sei ricco. Amen? E la bestemmia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione affinché siate provati e avrete una tribolazione per dieci giorni, dice il Signore. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito, alleluia, dice alle chiese, chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Padre Celeste, ci inchiniamo davanti alla verità, alla grandezza di questa parola, Padre, la tua parola, Signore. E ti chiedo ancora, Signore, la saggezza di cui ho bisogno per condividere la tua parola, un sano messaggio, un buon messaggio, un messaggio, Padre, che sia in accordo alla verità delle Sacre Scritture. Dacci quella saggezza, dai la saggezza ai miei fratelli e a ognuno di noi di ascoltare la tua voce, Signore. Signore, piega i nostri cuori a te, Signore. Signore, che i nostri cuori siano umili, arresi, Signore, completamente disposti a fare la tua volontà. Padre, aiutaci, Signore. Siamo negli ultimi tempi. Aiutaci a essere svegli spiritualmente per la tua gloria. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen. Fratelli cari, sorelle care, nel Signore, la parola che abbiamo, alleluia, appena letto, è una fonte di insegnamenti che deve ispirare la nostra vita cristiana affinché, se siamo manchevoli in qualche punto, ed è così, siamo in un modo o nell'altro mancanti, siamo imperfetti, fratelli. Diciamo la verità, nessuno di noi ha raggiunto la perfezione, nessuno di noi ha raggiunto un livello spirituale dove possiamo dire che siamo perfetti. No, fratelli, tu e io siamo ancora persone da modellare. Quanti dicono amen? Siamo persone che hanno bisogno di essere ancora trattati da Dio, trasformati da Dio, lavorati da Dio, perché il Signore è il vasaio che deve, gloria al Signore, modellare sempre di più le nostre vite, affinché giorno per giorno noi diventiamo dei vasi ad onore che possono portare gloria e lode al nostro Dio. Perciò ogni giorno abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, nel Signore, di essere liberati da noi stessi, cioè dalla vecchia natura, dal vecchio uomo, dal vecchio carattere, dagli impulsi che ancora vorrebbero uscire dalla nostra carne, dal nostro essere umano. Ecco perché ogni giorno abbiamo bisogno, fratelli, di scendere nella casa del vasaio dove il Signore può prendere le nostre vite e modellarci secondo il suo volere, fratelli, ogni giorno. Non te lo dimenticare, Chiesa di Cristo, fratello, sorella che mi ascolti, anima mia, fratello Stefano, ogni giorno hai bisogno di essere modellato, sorella, sorella, fratello che ascolti la parola di Dio, ogni giorno hai bisogno di essere trasformato, liberato da certe cose che ti vorrebbero contaminare, ogni giorno hai bisogno della santificazione, di un nuovo intervento da parte di Dio che ci purifichi, come dicevo, ci liberi da noi stessi, cioè dalla nostra vecchia natura carnale, adamica, debole, che vuole ancora contaminarsi in certe cose. Ecco perché il Signore, nella sua saggezza, nella sua misericordia, alleluia, il Signore mandò queste lettere alle sette chiese dell'Apocalisse ed è questo che passo dopo passo con l'aiuto dello Spirito di Dio continueremo ad analizzare, vogliamo analizzare queste scritture, vogliamo meditarle insieme per trarne dei buoni insegnamenti per le nostre vite, dei buoni consigli, per trarne del profitto per la nostra vita spirituale oggi, perché la parola del Signore, alleluia, è valida ancora oggi, amén, alleluia, il Signore disse i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, questa parola che fu scritta duemila anni fa circa è valida per oggi, amén, questa lettera che abbiamo letto non era solo per la chiesa di Smirne, ma questa parola, alleluia, questa lettera, questo insegnamento, questa istruzione del Signore, questo avvertimento, alleluia, da parte di Gesù Cristo vale per te e per me oggi, amén, dillo, dillo per fede, il Signore questa parola vale per me oggi, questa parola è per me oggi, mio Dio parlami oggi, alleluia, che la tua parola penetri nel mio cuore oggi, amén, alleluia, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come fece il popolo di Israele nel deserto, amén, alleluia, ma se oggi siamo qui fratelli, sorelle cari ad ascoltare la voce del Signore, umiliamoci davanti a Lui e chiediamo a Lui di modellarci, di lavorare nelle nostre vite, alleluia, di fare un'opera nuova nelle nostre vite, di trasformarci, di purificarci. La parola di Dio, fratelli, è quell'acqua spirituale mediante la quale il Signore Gesù lava e santifica la sua chiesa, come è scritto nel capitolo 5 della lettera agli Efesini, che il Signore mediante il lavacro della parola, dell'acqua, mediante la parola, l'acqua spirituale, il Signore lava, purifica, santifica, la sua chiesa che siamo noi affinché in quel grande giorno ci possiamo presentare dinanzi a Lui come una chiesa santa, gloriosa, senza macchia né ruga, ma affinché possiamo essere una chiesa approvata, gradita agli occhi del Signore, fratelli. Amen? E il Signore tramite queste lettere, come stiamo vedendo, il Signore esortava la chiesa in quei tempi, perché anche in quei tempi nelle varie comunità che sorgevano nelle varie chiese, nelle varie assemblee o gruppi di credenti, sorgevano o entravano delle cose, delle attitudini che non erano da Dio. E allora il Signore Gesù che tutto vede. Amen? Alleluia? Quanti credono che il Signore tutto vede? Tutto sa, tutto conosce. Alleluia! Il Signore ha due occhi come fiamme di fuoco. Alleluia! Egli scruta, e gli investiga il cuore e l'anima. Perciò, fratelli, nulla ha nascosto ai suoi occhi. Egli conosce i nostri pensieri, quello che c'è dentro di noi. Egli vede al di là dell'apparenza che possiamo avere. Egli vede cosa c'è dentro di noi, cosa stiamo pensando. Egli conosce le intenzioni di ogni cuore, di ogni anima, di ogni persona. Egli sa, per esempio, per quale motivo io sono qui, in questo momento. Egli conosce l'intenzione del mio cuore. Gloria al Signore! E al di là, fratelli, dei miei difetti, perché io ho dei difetti, ho delle mancanze, ho ancora diversi punti nella mia vita, nei quali devo migliorare, devo crescere. Il Signore deve lavorare in diversi aspetti della mia vita, perché sono un uomo imperfetto. Ma Dio sa che il mio unico desiderio, il mio vero desiderio, è fare la volontà del Signore! Fare la sua volontà! E questo deve essere il desiderio della Chiesa! Ancora oggi! Fare la volontà del Padre, la volontà di Dio! Fratelli, la Chiesa è stata posta sulla terra per essere luce del mondo e sale della terra! E noi dobbiamo fare la volontà di Dio! Mentre siamo qua giù, mentre viviamo in questa terra, noi dobbiamo portare la testimonianza, dobbiamo portare la luce, dobbiamo glorificare Dio, dobbiamo essere strumenti nelle mani di Dio, dobbiamo, gloria al Signore, fare la volontà di Dio! La Chiesa deve fare l'opera di Dio, non deve fare altre cose, la Chiesa non si deve involucrare o coinvolgere in altre situazioni, in altre cose che non glorificano Dio! La Chiesa non si deve legare alle faccende della vita terrena, della vita materiale, fratelli, degli affanni di questo mondo! Ma la Chiesa deve, alleluia, vivere per fare l'opera di Dio! Il vero cristiano deve fare l'opera di Dio! Ma ti voglio dire, prima che tu e io possiamo fare l'opera di Dio! È lui che deve fare la sua opera in noi! Tu non puoi fare l'opera di Dio se prima il Signore non fa la sua opera nella nostra vita! Il Signore vuole fare la sua opera nella nostra vita e quando lui fa la sua opera nella nostra vita, allora noi siamo messi in grado di fare l'opera di Dio! Tu non puoi fare l'opera di Dio se prima il Signore non fa la sua opera, la sua opera, la sua opera nella nostra vita! Ecco perché ci dobbiamo arrendere, dobbiamo lasciare lo Spirito Santo lavorare in noi, possiamo dire simbolicamente lo Spirito Santo, cari fratelli e sorelle, deve scavare, scavare, nelle profondità del nostro essere! Lo Spirito di Dio deve lavorare, gloria a Dio! Lo Spirito Santo deve operare dentro di noi! Amen! E togliere tutto ciò che non serve, tutto ciò che non dà gloria a Dio, tutto ciò che è carnale! Lo Spirito Santo deve toglierlo, deve strapparlo! E così noi, giorno per giorno, diventiamo fratelli e sorelle veri uomini di Dio! Amen! Veri figli di Dio, veri servi di Dio! La Chiesa è chiamata a fare la volontà di Dio! Allora Gesù, nel vedere certe condizioni o certe situazioni che non andavano bene nelle chiese dell'Asia, il Signore mandò queste lettere che prima di tutto erano indirizzate agli angeli delle chiese, il Signore prima di tutto parlò agli angeli delle chiese, infatti qui in Apocalisse 2 verso 8 dice il Signore, la scrittura, la scrittura, la parola dice e all'angelo della chiesa in smirne scrivi! Perciò queste lettere, queste parole, prima di tutto erano indirizzate all'angelo della chiesa e l'angelo era l'anziano della chiesa, il ministro, il messaggero, cioè l'uomo che Dio aveva messo in quella comunità per curare la comunità! Amen! Perciò la parola di Dio prima di tutto deve essere accolta dall'angelo! E vi dico fratelli, se per grazia di Dio io che sto parlando sono un angelo, cioè sono un messaggero del Signore, perché predico la sua parola e in un certo modo il Signore mi ha messo per essere un messaggero della sua parola per la sua gloria in mezzo al suo popolo anche tramite questi video! Ma vi voglio dire prima di poter annunciare la parola, questa parola che viene da Dio prima di tutto deve toccare il mio cuore! Amen! Prima di tutto deve operare nel mio cuore! Prima di tutto questa parola deve fare effetto nel mio cuore! Alleluia! Perché se la parola prima di tutto non tocca il mio cuore, cosa posso insegnare agli altri? Se questa parola prima di tutto non libera me, se questa parola non opera in me, se io non la colgo, se io non la ricevo, cosa posso dire agli altri? Cosa posso trasmettere agli altri? Se questa parola prima di tutto non trova spazio in me, cosa posso dire agli altri? Fratelli, se io volessi predicare, ma prima di tutto non lascio lavorare Dio nella mia vita, io divento un'ipocrita perché predicherei la parola ma non la metterei in pratica! Prima di tutto la parola deve lavorare in me! La parola di Dio deve lavorare nel cuore dei ministri, nel cuore dei servi, nel cuore dei predicatori! Prima di tutto la parola di Dio deve, alleluia, entrare nelle profondità di coloro che hanno un compito di poterla insegnare agli altri! Prima deve toccare i nostri cuori! La parola deve illuminare prima di tutto il nostro cuore! La parola deve cambiare i nostri cuori affinché noi possiamo parlare per mezzo dello spirito di Dio, per mezzo dell'unzione di Dio! Possiamo parlare di un'esperienza personale! Come posso dire agli altri? Ascoltatemi, come posso dire agli altri il Vangelo è potenza di Dio? Se prima di tutto io stesso non ho sperimentato quella potenza! Se io non sperimento la potenza del Vangelo! Se io non ho ancora sperimentato la potenza della parola! Come posso dire agli altri il Vangelo è potenza che ti può liberare? Come posso dirlo agli altri se io stesso non l'ho ancora sperimentato? Fratelli e sorelle, prima di tutto siamo noi che dobbiamo essere toccati dalla parola, liberati dalla parola, trasformati dalla parola, illuminati! Cioè i veri ministri di Dio devono essere i primi ad essere illuminati affinché noi possiamo, alleluia, insegnare agli altri, oh, e le che escebili a cui la via del Signore! Possiamo insegnare la verità, un buon messaggio, una sana dottrina, un sano insegnamento proveniente da Dio! E allora prima di tutto siamo noi che abbiamo bisogno di essere illuminati dall'Eterno! Amen! Chi ha orecchi da udire oda? Tutte le lettere di Gesù Cristo alle sette chiese dell'Apocalisse furono indirizzate prima di tutto agli anziani, ai ministri, ai messaggeri, ai pastori, perché la parola di Dio prima di tutto vale per chi la predica! Amen! Alleluia! La parola di Dio prima di tutto vale per chi la predica! Ma come la posso predicare se io stesso non la considero, non la apprezzo, non la sperimento, non lascio che la parola entri nelle profondità del mio essere? Se io stesso sono insensibile, sono indifferente, sono superficiale, cosa posso insegnare agli altri? Fratelli, e oggi c'è un grande pericolo di questo, perché in giro ci sono tanti cosiddetti ministri, predicatori, che sono superficiali, loro non hanno una vera consacrazione, non hanno un vero impegno nella parola di Dio, ci sono uomini che si dicono di essere pastori e predicatori, ma la loro vita non ha avuto una vera esperienza con la potenza di Dio, con la potenza dello Spirito Santo, in altre parole sono predicatori, ma la parola non li ha trasformati, perché sono ancora uomini carnali, mondani, uomini che vivono una doppia vita, fratelli, ed è triste vedere questo, pastori che vivono ancora come il mondo vive, no fratelli, i veri uomini di Dio devono essere uomini trasformati, liberati dal vecchio uomini che si consacrano, uomini che hanno un'esperienza genuina e reale con Dio, che hanno ricevuto una chiamata genuina da Dio, ma il grave problema oggi è che ci sono tanti pastori, che sono pastori fatti a tavolino, cioè hanno fatto una scuola, hanno fatto un istituto biblico, hanno fatto una scuola teologica, ma non hanno fatto un'esperienza con Dio, noi dobbiamo avere un'esperienza con Dio, con la potenza di Dio, la parola deve compenetrare il nostro essere, deve trasformare prima di tutto noi, affinché noi possiamo essere veri strumenti per la gloria di Dio. Il Signore scriveva all'angelo della Chiesa in smirne, la parola smirne, cari fratelli, deriva dal termine mirra, che significa spiritualmente sofferenza, cioè un tempo di sofferenza, la parola smirne ci parla di sofferenza, e questo ci fa capire che i veri cristiani, che vogliono veramente seguire Cristo, soffriranno, perché il mondo fratelli, il sistema del mondo, la corrente del mondo, ci è contraria, chi vuole vivere piamente in Cristo Gesù sarà perseguitato, e allora per servire veramente il Signore, per fare la volontà di Dio, noi dobbiamo essere pronti a soffrire, perché seguire Cristo, servire Dio, non è facile ai giorni d'oggi, non è facile in mezzo a un mondo tenebroso, e a volte non è facile in mezzo ad una Chiesa che si è mondanizzata, si è secolarizzata, modernizzata, a volte le prime sofferenze vengono da dentro, dalla Chiesa, da cosiddetti fratelli, da pseudo fratelli, che sono i primi ad opporsi ai veri servi di Dio, ci sono persone che dicono di essere cristiani, che sono pronti ad applaudire i falsi profeti, sono pronti ad accogliere i falsi predicatori, ma quando arriva un vero uomo di Dio che predica la verità, che predica contro il peccato, che predica contro i vizi, contro la mondanità, allora le persone iniziano ad opporsi, perché l'Apostolo Paolo diceva che negli ultimi tempi le persone non ameranno più la sana dottrina, ma si accumuleranno tanti maestri secondo le loro voglie e allontaneranno l'udito dalla verità per rivolgersi alle favole, ma la vera Chiesa, i veri uomini e le vere donne di Dio devono inclinare il loro orecchio alla verità, alla voce dello Spirito, alla vera parola di Dio, dobbiamo avere un orecchio spirituale attento, per ascoltare la voce del Signore. Il Signore diceva all'angelo della Chiesa in Sbirne queste cose dice il primo e l'ultimo, perciò qui troviamo le parole del Signore, Gesù Cristo, che è chiamato il primo e l'ultimo, cioè Lui è l'unico che ha, alleluia, la preminenza in mezzo a noi, perché Lui è il primo, cioè Lui è la fonte, Cristo è la sorgente, Cristo è l'essenza, Cristo è il primo ed è anche l'ultimo, ossia che Lui è l'unico che può riempire la Chiesa, è l'unico che può guidare la Chiesa dall'inizio alla fine, è l'unico che può veramente prendersi cura di noi in ogni aspetto della nostra vita, Lui è il primo, ma Lui è anche l'ultimo, cioè Lui è colui che riempie ogni cosa, non c'è nessuno pari a Lui, non c'è nessuno paragonabile a Lui, non c'è nessuno dopo di Lui, non è che possiamo dire Cristo lo mettiamo al primo posto e poi vogliamo in un certo modo intendere che ci sarebbe anche un secondo posto, allora Gesù è al primo posto e al secondo posto chi ci sta? Non c'è un secondo posto fratelli, Cristo è il primo e l'ultimo, Cristo è il primo e non c'è un secondo posto, non c'è un terzo posto, non c'è un quarto posto, Cristo è colui che riempie tutto, non c'è un primo posto e poi un secondo posto per qualcun altro o per qualcos'altro, alcuni dicono al primo posto Dio, al secondo posto metto me, metto i miei desideri, metto le mie cose, no, Cristo è il primo e Cristo è l'ultimo, cioè Lui deve essere il centro della nostra vita, non c'è nient'altro che può dare un senso, un valore alla nostra vita, Lui è il primo e l'ultimo, Lui è tutto, Amen, Lui è la nostra vita, Lui è l'essenza, Lui è il primo, Alleluia, Lui è tutto, Amen, Cristo è tutto in noi, non c'è un secondo posto, un terzo posto, un quarto posto, un quinto posto, noi dobbiamo vivere vivere in Cristo, è solo in Lui, noi non abbiamo un'altra vita, io ho la vita cristiana e poi c'ho anche la mia vita secolare, c'ho la mia vita mondana, la mia vita con gli amici, la mia vita con i divertimenti, con gli hobby, no, Cristo è la nostra vita, non c'è altra vita lì fuori di Lui, tutto il resto è vanità, tutto il resto è illusione, tutto il resto è passeggero, ingannevole, la nostra unica vita è Cristo, Amen, la sorgente della vita è Cristo, l'essenza della Chiesa è Cristo, Alleluia, l'unica verità della nostra vita è Cristo, non c'è una seconda verità, una terza verità, una quarta verità, non c'è un signore al primo posto e poi c'è un altro piccolo signore al secondo posto, un signore al terzo, no, l'unico signore è Cristo e noi dobbiamo fratelli realizzare questo, sperimentare questo, è per questo che noi dobbiamo rinunciare a quei altarini del secondo posto, del terzo posto, del quarto posto, no, c'è solo un trono, c'è solo un posto, c'è solo un altare, l'altare di Dio, Alleluia, Gesù è il primo e l'ultimo, non c'è niente, nessuno all'infuori di Lui, Alleluia, Lui è il primo, l'alfa e l'omega, Cristo è il principio, è la fine, Lui è tutto, e così deve essere anche oggi per la Chiesa, fratelli, se no, cadiamo nell'inganno, se no, apriamo le porte ad altri signori, tra virgolette, ma la Bibbia dice, noi non possiamo servire due signori, Cristo è il primo e Cristo è anche l'ultimo, che il Signore ci aiuti, fratelli, a sperimentare, a realizzare, a vivere questa verità in questi giorni che stiamo vivendo, amén, il Signore dice, io sono il primo e l'ultimo che morì e tornò in vita, fratelli, la morte di Cristo è la nostra vittoria, la risurrezione di Cristo, amén, è il fondamento della vita spirituale, come Lui è risorto, anche noi siamo risorti con Lui e noi non siamo più quelli che eravamo prima, ma siamo uomini risorti con Cristo, cioè rinati, uomini che vivono una nuova vita, Lui è colui che è risorto, Cristo è risorto e anche i veri credenti sono risorti con Lui, noi dobbiamo vivere una nuova vita con Cristo, tu non puoi dire di essere un cristiano autentico se tu non stai vivendo una nuova vita con Cristo, perciò analizziamoci davanti allo specchio della parola, stiamo vivendo una nuova vita con Cristo, fratelli, sorelle, stiamo noi vivendo una nuova vita con Cristo, stiamo noi vivendo veramente in novità di vita, stiamo noi vivendo una vita rinnovata, una vita rigenerata, una vita trasformata nello spirito, Cristo è colui che è morto ed è risorto, quando Lui morì alla croce, anche il vecchio uomo morì, perché la Bibbia ci rivela che anche il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, cioè quando Cristo morì, quando il corpo di Cristo morì alla croce, anche il nostro vecchio uomo fu condannato, anche il vecchio uomo morì, il vecchio uomo fu sentenziato alla croce, il nostro vecchio uomo è morto con Lui, dice Romani, capitolo 6, dal verso 5 in avanti, il vecchio uomo fu crocifisso con Lui, alleluia, affinché il corpo del peccato, cioè la vecchia natura, non ci domini più, non ci schiavizzi più, affinché noi non viviamo più sottomessi alla vecchia natura, ma affinché noi possiamo servire Dio, vivere nel Signore, vivere nello Spirito, il vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato sia distrutto e noi non serviamo più al peccato, ma serviamo Dio, serviamo Gesù in novità di vita per lo Spirito, ma noi dobbiamo avere fede in questa parola, caro che mi ascolti, se tu hai fede in questa parola, in questa verità, in questa dottrina biblica, tu sarai liberato dal vecchio uomo e non sarai più dominato dalle passioni, dalle debolezze, dai pensieri carnali, ma tu potrai vivere in novità di vita, nella libertà dello Spirito, nella pienezza dello Spirito, alleluia, e allora noi potremo così essere la vera Chiesa di Gesù Cristo, fratelli, Egli conosce le nostre opere, dice qui in Apocalisse 2,9 e con questo voglio finire, fratelli, io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, ma tu sei ricco, fratelli, anche se noi soffriamo in questo mondo, noi siamo beati, anche se noi soffriamo in questa terra per amore di Cristo, questa è la vera gioia, anche se noi soffriamo per l'Evangelo, noi siamo beati, amen, e anche se umanamente siamo deboli, fragili, in Cristo siamo forti, in Cristo siamo vittoriosi, amen, anche se umanamente come il Signore disse alla Chiesa di Smirne, tu sei povero, ma in verità sei ricco, anche se umanamente noi non abbiamo ricchezze, non abbiamo valore, umanamente siamo piccoli, nel Signore siamo ricchi, nel Signore abbiamo tutto, abbiamo le ricchezze celesti, le ricchezze spirituali, ma tu devi entrare in questa profondità, in questa verità, devi per fede abbracciare questa ricchezza, per fede devi aggrapparti alla verità, devi per fede aggrapparti a Cristo e devi lasciare il vecchio uomo, per fede afferra questa verità e tu vivrai una vita vittoriosa, una vita ripiena, una vita santa, una vita libera, una vita benedetta, una vita nella gioia e le tribolazioni che tu attraverserai in questa vita presente non saranno nulla davanti alla gloria che sarà manifestata. In Cristo Gesù benedetto in eterno afferriamo questa verità di Cristo risorto, afferra questa verità di Cristo risorto, amèn, continueremo in queste riflessioni alla gloria di Dio, amèn, le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria del Signore che sarà manifestata in noi. Dio vi benedica nel meraviglioso nome di Gesù. amèn e amèn.